Breve camminata in Valformazza ancora in completo stile invernale nonostante ormai siamo alle soglie della primavera dall'uscita superiore della galleria delle casse raggiungo il vicino caratteristico laghetto di Antillone La partenza di questa breve passeggiata avviene in un paesaggio di fiaba dove la neve decora magicamente gli abeti la primavera dall'uscita la primavera dall'uscita il minuscolo e caratteristico laghetto di Antillone adagiato in una conca tra fitte pinete è ancora completamente ghiacciato la primavera dall'uscita 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 Grazie a tutti.